Se vuoi davvero essere in grebo alla grazia, ciò che è necessario da parte tua è che cammini come un devoto, non con presunzione, non come un devoto pretenzioso. Come ho detto prima, non sai come questo albero funziona in realtà. Non sai come questo filo d'erba accade. Non sai come niente sta funzionando qui. Lo sai? No. Quindi, voglio che tu guardi ogni cosa. Ogni cosa sembra essere un po' più intelligente di te. Quando sei così stupido, è meglio che quando vedi un albero, se vedi la montagna, un filo d'erba, ogni cosa. Voglio che li guardi per chi sono, per cosa sono. No, no, anche il mio corpo è... quello va bene. Il tuo corpo è geniale. Il tuo corpo sta facendo molte cose che non sai. Tu, in quanto persona, cosa sai? Sai anche solo ciò che questo filo d'erba sa della vita? non lo sai. Non lo sai. voglio che tu guardi ogni cosa. Anche un granello di sabbia sa molto più di te sulla vita. Quindi, tu sei una matricola qui. Erano tutti qui molto prima di te e sanno molto più di te sulla vita. Quindi, voglio che tu cammini con un certo senso di meraviglia, di devozione, verso ogni cosa. Semplicemente, provaci nelle prossime 24 ore. È tutto ciò che serve. Questo è tutto ciò che serve per aprire le porte della vita. che tu non pensi troppo di te stesso. Che tu non pensi qualcosa di te che non è vero. Qualunque cosa tu pensi di te stesso è assai non veritiera. Perché quando si tratta di vita, di base, ciò che questo suolo sa, tu non lo sai. Non è così. Sì. Di solito, in America, chiamano il suolo polvere, sporcizia. Voglio dire, ciò che questa sporcizia sa, tu non lo sai. Il tuo cervello non può fare ciò che questo suolo sta facendo. È un fatto? È un fatto? Quindi, quando ci sono persone così grandi, dei pilastri intorno a te, tu cammini con delicatezza. Capisci? Non andare così. Perché non sono banali. se semplicemente cammini così, se cammini con devozione, lentamente, cadrai in grembo alla grazia. senza questo, il percorso spirituale è una cosa dannatamente difficile da fare. Ciò che ho attraversato, non voglio che nessuno lo attraversi. Ecco il perché dello sforzo. di questo, non voglio che nessuno non voglio che nessuno No voglio che nessuno Grazie.